Sono ufficialmente alle sette, si parte per la prima corsa. Primi sei chilometri e mezzo andati, sento un po' di fatica alle gambe. Mi sono allenato tutta la settimana. Visto che sto preparando la circo navigazione a nuoto dell'isola d'Elba, adesso devo andare a nuotare. Anche la mia terza corsa è finita. Sono le tre, un quarto, un po' di cane e le gambe. È la sesta corsa di fila in 24 ore. Spero che questo video funzioni, che lo vedete in tanti. Non lo so, ho i miei dubbi, cioè non voglio essere negativa. Se non lo vivi, cioè se non sperimenti questa cosa, potrebbe risultare facile farla, questa sfida. Prima di esserci in questa sfida, quindi svegliarsi anche di notte, andare, quindi non avere mai un sonno continuo, non la capivo, dicevo sì, è facile farla. Mi posso assicurare di no. Buono, settima corsa fatta. Settima corsa fatta, devo parlare così perché sennò mi ammazza qualcuno qui. Questa è la nostra ottava corsa. Non so, chi non so perché. Stanchezza, molta meno rispetto a stanotte. Forse perché ho fatto una bella dormita e mi sento un po' più carico. Specifichiamo due ore di dormita. Sì, abbondanti dai. Basta? È un po' rallentato ancora. Direi di andare. Andiamo? Stop. Data. La cosa difficile di questa sfida che la rende un po' difficile non è il fatto di correre, perché correre, chi se ne frega, sono anche una distanza relativamente breve, diciamo, ma è il fatto che devi svegliarti ogni volta e tu ogni volta che ti addormenti, dormi tipo solo un'ora e mezza e appena ti addormenti, ti devi risvegliare e andare a correre. Ed è come se fosse passato un secondo. Quindi in pratica tu vai a correre, torni a casa, bevi qualcosa, mangi qualcosa veloce, vai subito a dormire e subito ti riapri gli occhi che devi tornare a correre. Quindi è quella la cosa difficile perché dici, caspita, ha fatto la corsa, ha finito, possiamo andare? Boom. No, non hai neanche un attimo di riposo. Perché con l'ora e mezza non è proprio riposo, è più... Dormi meglio. Esatto. Però ci sono momenti, tipo adesso, ho fatto una bella, un bel sonnellino. Quindi è andata bene, senti che... Ecco che c'è. Ci siamo svegliati, adesso è la corsa delle tre, non so che punto siamo. Abbiamo mangiato quindi abbiamo avuto solo un'oretta, gli siamo per dormire. Sono le 15, un po' stanco, parerei dalla cameraman. È molto molto distrutto, il ragazzo è un po' stanchetto, gli fanno un po' male le gambe. C'è quel mare di domani. Irritazioni. Ah sì, sono pieno di un po' di irritazioni sulle gambe. Ma vabbè. It's all fine. Direi comunque che possiamo partire per la nostra nona corsa. Andiamo. Siamo a due chilometri. Più difficile del previsto, almeno per me. Che non faccio nulla, che ti accompagno. È difficile da presto. Perché svegliarsi e dormire così poco è dura. Sono letteralmente distrutta dalla vita. No, scherzo. Niente, sono un pochino stanca. Da questo non so dove ci è andato. Sei chilometri e cinque anche adesso. È andata abbastanza bene. La nostra camera me ne invece si sente un po' stanca. C'è un fatica oggi, sanguino oggi, per soffrire di meno domani. Giusto, giusto. Mi piacciono le mie nuove scherpe. A miei pareri sono molto comode. Ah no, non vi dico il modello. Non diciamo la marca finché non ci paghiano. Il mio numero è 346. In due giorni ti sei mangiato 375. Così poi. È finita con Nora, non me l'ha lasciato neanche un po' stituto. Ragazze, ditemi voi se anche il vostro ragazzo fa così. Comentate con il corso, non con te. Un burro ad arachidi. Wow, sembra davvero invitante. Vuoi il tuo favore di dirci la ricetta che se no qua? 600 calorie, porca volta. Vedete come mi considero? Zero. Ormai è più importante il cellulare di me. Siamo gasati. Mi è uscita una storia su Instagram esattamente di due anni fa dove correvo e avevo scritto solamente concentrato, no? O nulla è cambiato, capito? E in quei due anni lì pesavo 107 kg. Quindi facciamo vedere a noi stessi del passato cosa siamo diventati. Siamo gasati porcane. Gasatissimi. Dalle bestie. Sono le 19, questo significa che adesso partiamo per la nostra decima corsa di queste 48 ore. Andiamo. Come sta andando? Ti dispiace che siano le, non contiamo questa, le ultime due corse? Saranno solo le ultime due corse. Solo due momenti in cui potremo fortificare le nostre menti e diventare più forti. Sta andando bene, molto bene. È tutta una cosa mentale. Prima ci siamo svegliati, ero ben stanchino, detto proprio sinceramente. Ho aperto un attimo Instagram. Porco cane, è saltato fuori il ricordo. Quello automatico di Instagram. Del 15 aprile 2021. Esattamente due anni fa. E vi faceva vedere una mia foto, mia storia, dove sto correndo alle 5 del mattino. Con la scritta Just Focused. Cioè tipo, sono solo concentrato. Sono passati due anni. Da 107 kg sono passato a 84. E adesso sono sempre qua che corro. Solo che stavolta il nostro primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. E ora corro per raggiungere il nostro secondo obiettivo. Come potrebbe essere male questa giornata? Siamo in piedi oggi e combattiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Certo, magari mi sentirò stanco dopo questa corsa. Quando farò la corsa delle 23 e delle 3 di notte. Ma poco male, perché ora mi sto godendo questo momento. Ripenso, no? Quando ero a 107 kg, avevo il mio obiettivo da raggiungere, no? Che poteva essere tipo quello di dimagrire. Di mettermi in forma. Poi sono arrivato adesso a 84.90. Ho un altro obiettivo in testa. Quando ero 107, sono uscito per andare a correre. L'obiettivo era quello di fare 4 km più o meno. Ho fatto 700 metri e mi sono fermato a camminare. Perché ero morto. E ora, dopo due anni, sto completando un circuito di un heavy seal. Da 77 km. Mi è incredibile quello che potresti fare tu. È come essere umano. Cioè, se uno mi avesse detto, due anni fa, farai un Ironman. Trainerai una macchina per mezza maratona. Farai 50 km. Non ci avrei creduto, proprio. Detta così. E invece, guarda. Quindi se dico che qualsiasi cosa è possibile, è vero. Cioè, esci, allenati e raggiungi i tuoi obiettivi. Qua è come cammina il ragazzo. Undicesima corsa. La penultima. Praticamente l'ultima. La prossima non la sentire. Gambe un po' pesanti. Ma fa parte del gioco, giusto? Giusto. Buono. Sono le 23. Direi che possiamo partire con la nostra undicesima corsa. Di queste 48 ore. Andiamo. Ho un po' di irritazione alle gambe. Fa un po' male, ma... Vabbè. Dai, dai, che va. 5 km. Buono. Sono le 3 di notte. Adesso partiamo per la nostra ultima, dodicesima corsa in queste 48 ore. Devo tenere le gambe larghe, perché ho delle abrasioni assurde, delle irritazioni incredibili. 13 allenamenti in 48 ore. Contando anche quello di nuoto, che mi ha scombussolato un po' all'inizio. La cosa difficile è continuare a svegliarsi ogni ora per andare a correre. Distrugge un po' mentalmente. Già è abbastanza difficile svegliarsi alle 4 per andare a correre. L'obiettivo era quello di svegliarsi ogni 4 ore e correre 4 miglia. Ma appena tu finisci di correre 4 miglia, ormai è passata quasi un'ora. Mangi qualcosa, ti sciacqui un po' e passa mezz'oretta. Ti rimane tipo un'ora e mezza o due per dormire. Il che significa che dormi più o meno un'ora e mezza. Sei fortuna. E poi devi svegliarti di nuovo. E la cosa difficile è anche addormentarsi. Visto che hai corso e mangiato, fai proprio fatica ad addormentarti. Mancano più o meno due chilometri e trenta. Direi di iniziare ad andare un po' più forte. Fidiamo questa sfida fatta bene. Manca solo un chilometro. E' chiusa, è chiusa. 300 metri ancora. 3,49. Faccio lo sprint finale. Ok, dov'è stare dietro. 150 metri sprint finale. 50 metri. Non finiscono più questi 50 metri. Andata. Perciò. Sì. In mezzo alla strada, in mezzo all'iente. E sono le... 3,50 euro. Non so che cosa aspettarmi nella prossima sfida. Ora una persona andrebbe a casa e dormirebbe, visto che siamo in deprivazione del sonno da 48 ore. Ma visto che io devo fare dei video, ora ci mettiamo in mezzo alla strada e facciamo una storia per David Goggins. Aiutatemi. Chiamate il numero verde. Ragazzi, corre pure. La forza, carai. Round 2. Voglio dormire, madonna. Sarebbe fattibile, ma devo lavorare, mi dispiace domani. Sì, sì, sì. Ah sì, è vero, domani lavoro. Buono? Grazie per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like per l'impegno e per l'outro che la sto facendo alle 3 di notte. E niente, allenati. Andi. 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 Andi.